Ciao a tutti, Mr. Graucio Romano qui ancora con voi per parlarvi del forse quello che è il film più atteso dell'inizio della stagione, e vale a dire Inception, il nuovo film di Christopher Nolan, film attesissimo, film che racconta una storia complicatissima di un ladro di sogni, più o meno un ladro di sogni, quantomeno un ladro di idee nascoste nell'inconscio interpretato da Leonardo DiCaprio, grandi attese perché dopo Il Cavaliero Oscuro, dopo De Prestige, dopo Un Memento, Nolan è uno dei registi più in vogue in questo momento, e diciamolo, è un film possente, se mi concedo il termine, che sicuramente non delude le aspettative. Una delle curiosità di questo film è che, a prescindere da quello che può essere il pretesto, cioè il lato di sogni, il film è costruito come un classico film di rapina. Leonardo DiCaprio ha la capacità di entrare nei sogni altrui, di fare entrare gli altri nei propri sogni, attraverso un'esperienza chiamata Sogno Condiviso, e la usa per compiere furti di segreti, per spiare, per compiere atti non particolarmente legali. In questo caso viene assunto da una sua ex vittima, con lo scopo di inculcare in un rivale economico l'idea di distruggere il proprio impero finanziario per poterne usufruire. Detto questo, il plot è semplice, è la costruzione che è molto complessa, perché per poter arrivare all'obiettivo finale, il racconto si struttura su cinque livelli di sogno, cinque profondità di fase REM, potremmo dire. Detto questo, cioè della grande complessità della trama, che per almeno mezz'ora non è proprio chiarissima, anzi volutamente spiazza lo spettatore, Christopher Nolan dimostra ancora una volta un tocco, a mio parere, straordinario nella gestione dei tempi e dei toni della narrazione. Intanto fa una cosa quasi opposta a quello che aveva fatto nel Cavagliere Oscuro. Se lì prendeva una grande icona dell'intrattenimento, del divertimento, e la rendeva protagonista di un film cupo, dolentissimo, quasi d'autore, nella ricerca delle trame, dei sottotesti, qui fa il contrario, prende una storia che potrebbe essere quella di un film di Tarkovsky, per esempio, e la rende uno straordinario intrattenimento. Un thriller, una spy story, un film d'azione e di tensione, che però si sa coniugare anche con una grandissima riflessione su quello che è non solo il subconscio, ma la vera e propria creazione. C'è una frase in cui uno dei personaggi dice siamo nel regno della pura creazione. Ed è questo che fa per almeno metà del film, Nolan. Racconta questa storia di inconsci, di immaginazioni, di fantasie, esattamente come una grande allegoria del cinema. Dà, in questo senso, anche una sua visione del cinema. Un cinema che, attraverso la costruzione di meccanismi molto complessi, in realtà è la liberazione della visionarietà pura, legata al surreale, legata all'onidico, ma anche legata a quello che è la percezione di tutti i giorni della grandezza del sogno e, quindi, allo stesso tempo, dell'immaginazione cinematografica. Un film complicato, sicuramente. È un film che può respingere, anche perché, parliamoci chiaro, forse qua e là i dialoghi, soprattutto, sono un po' tirati per le lunghe, ma è un film che, dal punto di vista della costruzione scenografica, è imponente. È veramente una vera e propria costruzione delle scenografie mentali che ognuno di noi sogna. Nolan dimostra, attraverso la regia, attraverso le scene, come detto, e attraverso, soprattutto, il montaggio, la capacità di giocare con il tempo, con i ritmi del cinema e i ritmi della realtà, in una maniera da vero maestro. Forse, poi, si fa anche un po' prendere la mano da questo gioco e, quindi, alla fine, può restare la sensazione che il film non abbia tantissimo da dire, ma, attraverso il personaggio di Leonardo DiCaprio, sempre bravo, anche se in un ruolo che può parere simile a quello di Shutter Island, dà veramente il senso di un film in cui il protagonista, attraverso anche la grandezza dei temi, delle ambizioni e della messa in scena, in realtà il protagonista è l'intimo più forte dell'uomo che, nonostante tutto, non vuole soccombere. Un ottimo cast, dicevamo DiCaprio, ma c'è una deliziosa L&PG che abbiamo conosciuto con Juno, c'è un perfetto Ken Watanabe, che è un grande attore giapponese, che vi ricorderete per l'ultimo Samurai con Tom Cruise, e un controllo veramente della visione, anche di un nuovo modo di pensare ai blockbuster che sicuramente lascia il segno e che conferma Noran come tra i migliori registi della sua generazione. Quindi, insomma, ho parlato solo di questo film perché è veramente un film molto atteso, spero che andate a vederlo, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima!